Un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e questo video ho desiderato farlo perché è l'ultimo invio che ricevo dalla De Agostini dei componenti di Ironman dell'armatura di Ironman e qui abbiamo il 98 il 99 e il 100 voi sapete che io ho già pubblicato fino al 102 o anche il numero 103 parliamo delle dei componenti dell'armatura danneggiata però ho voluto lo stesso fare questo video che sarà un video davvero breve per potervi rendere partecipi appunto di quello che è contenuto in questo ultimo pacco che è veramente pieno la spedizione è la numero 28 e come vi ho detto all'interno troviamo il 98 il 99 e il 100 e in più andiamo a togliere tutto ecco qui gentile cliente nell'uscita 64 ti abbiamo fornito il pezzo 64D con un design non perfettamente simmetrico il pezzo 44D siamo lieti di informarti che in questa uscita troverai il pezzo sostitutivo ci scusiamo per il disagio e ti ringraziamo per la fiducia grazie alla De Agostini che ha provveduto all'errore commesso inviandoci gratuitamente il pezzo sostitutivo eccolo qua la borchia e poi abbiamo questo e i fascicoli numero 98 99 e 100 queste sono cose che avete già visto nei miei video dove abbiamo anche eseguito il montaggio e poi l'invito se qualcuno fosse interessato a continuare la collezione con le 20 uscite opzionali del prezzo di 19 euro cada una per la armatura danneggiata ecco qui io come sapete sto continuando questo infatti è il fascicolo numero 103 dove c'è parte della mano che andremo poi successivamente a questo video a prepararlo non appena possibile lo metterò sul canale mi raccomando ragazzi seguitemi ecco qui questo è inutile che ve lo apro perché fare solo il video più lungo e avete già visto tutte le sequenze di montaggio di tutti questi ultimi tre numeri se questo e questo e questo quindi li mettiamo via andiamo solo a vedere la borchia sto aprendo la plastica che la contiene ecco qui e infatti ovviamente anche questa ha presente il cerchio all'interno quello che mancava nella borchia che abbiamo ricevuto con il fascicolo 64 quindi grazie ancora alla D'Agostini questa è la borchia destra poi prima di chiudere questo video volevo ricordare a tutti i miei iscritti e a quelli che non si sono iscritti al canale che se hanno piacere possono anche iscriversi e io li ringrazio e se attivate la campanella sarete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video volevo anche dirvi che ho iniziato Robocop a giorni dovrei ricevere l'uscita numero 6 la numero 7 quindi se avete piacere seguitemi anche nella costruzione di questo cyborg Robocop che è alto circa due centimetri in più di quanto è alto Iron Man Iron Man è alto 62 centimetri e chiedo scusa Iron Man è alto 60 centimetri e Robocop circa 62 è ovvio che su Iron Man abbiamo 52 articolazioni su Robocop non potremmo certo avere quelle articolazioni perché non sono presenti sulla schiena dietro polpaccio tutto quello che è presente in Iron Man poi volevo ringraziare sempre con tutto il mio cuore ovviamente le persone che mi seguono come ho detto già prima per le visualizzazioni per le iscrizioni e dire alle persone che non sono iscritte che mi guardano che se hanno piacere a me di iscriversi a me l'iscrizione serve serve tanto e a voi non costa nulla per quanto invece riguarda le donazioni che ho cominciato a ricevere sul mio canale come vi dicevo sotto il video c'è scritto grazie qualcuno di voi ha già premuto quel tasto e mi ha mandato qualcosa grazie mille ora ho già ringraziato quelli che hanno mandato qualcosa qualche giorno fa grazie veramente del pensiero siete stati gentilissimi grazie mille sapete che queste cose a me servono per mandare avanti il canale volevo dire per un'altra cosa potrà succedere perché non ho ben capito ancora la dinamica il funzionamento di quello di cui vi stavo appena parlando cioè della donazione quando mi donate qualcosa vi chiederei un favore mettetemi sul commento anche solo grazie mi salutate mi fa piacere così io vedo chi mi ha mandato qualcosa perché sarei veramente dispiaciuto se non mi accorgessi appunto di colui che mi dona cercando di aiutarmi e io non lo ringrazio neanche per il sol fatto che non riesco a trovarvi cioè non ho ancora capito come guardare i grazie ecco si chiamano così le donazioni si chiamano grazie i grazie per cui ecco se avete mandato qualcosa e ancora non vi vedo abbiate pazienza non è una cosa che ho voluto non ringraziandovi per carità tutt'altro e che non vi vedo per questo motivo vi chiedo se avete piacere qualora decideste di mandare qualcosa e non siete affatto obbligati sia ben chiaro perché già che mi guardate vi scrivete per me è già un dono meraviglioso il canale è vivo grazie a voi e quindi vi abbraccierei tutti però detto questo se deciderete di mandarmi qualcosa mi raccomando scrivetemi grazie nei commenti e io andrò a trovarvi riuscirò a trovarvi diversamente non mi compare il nome di chi mi ha fatto la donazione ecco in sintesi questo è il fatto bene ragazzi Michele vi saluta vi ringrazia del vostro tempo questo video è voluto essere proprio il video finale dell'ultimo pacco ricevuto dalla De Agostini perché il resto che sto pubblicando della armatura danneggiata ho iniziato a farlo con l'edicola perché come vi ho appena detto ho già pronto il numero 3 mentre invece soltanto ieri mi è arrivato quest'ultimo pacco quindi sarei stato indietro ecco per questo motivo ho iniziato a farlo con l'edicola quindi ho voluto fare questo video proprio per chiudere questa sessione di montaggio con la De Agostini con il pacco ultimo che mi è arrivato bene un saluto a voi grazie del vostro tempo un saluto a tutti i vostri cari più cari e mi raccomando ragazzi se avete piacere non dimenticatevi di iscrivervi al canale e date anche un'occhiata alla playlist perché potrete trovare anche cose interessanti un'ultima cosa perché mi piace poterla condividere con voi è successa una cosa certamente non me lo sarei aspettato adesso insomma in così breve tempo ma ho superato in un video le 105.000 visualizzazioni in un solo video grazie a tutti grazie a tutti ciao ragazzi